Siamo con Michele Gianni, presidente della cooperativa T41B, cooperativa che attiva da anni, da decenni, su tante attività del territorio, compresa quella che riguarda il luogo in cui ci troviamo, il centro floristica e brilli cattarini. Spieghiamo come è coinvolta la cooperativa in questo tipo di attività. Sì, la cooperativa esiste da quasi mezzo secolo, 46 anni e quest'anno siamo arrivati a 140 lavoratori dipendenti di cui abbiamo sempre tra un 40 e un 50% vengono da categorie svantaggiate che possono essere disabili o persone seguite da pazienti psichiatrici o persone con problemi di dipendenze patologiche o anche detenuti. Quest'anno abbiamo assunto 5 detenuti, che è una cosa per noi, un numero, non avevamo mai raggiunto un numero che è un po' importante per i detenuti perché sono detenuti verso la fine della pena che quindi quando escono non si trovano in mezzo a una strada ma hanno già un lavoro. Abbiamo quindi attività diverse che vanno dalla gestione del canile a una tipografia, alla fagnameria, alla gestione del magazzino degli ausili protesici, che sarebbero le carrozzine, i lettini che vengono dati a casa dei pazienti. Uno dei settori più tradizionali e importanti è quello della manutenzione del verde e diciamo anche adesso negli ultimi anni dei servizi ambientali in generale. In 40 anni ci siamo evoluti moltissimo, oggi la manutenzione del verde è molto diversa da come era 40 anni fa, abbiamo macchinari anche di tutti i tipi per dare la manutenzione nelle aree più grandi e poi bisogna avere anche una cura particolare quasi proprio anche per le aree come questa che abbiamo un po' l'onore e l'onere di curare perché questo è uno dei centri più qualificati sicuramente della regione ma anche conosciuto a livello nazionale. E c'è anche non solo il centro Bellicattarini ma ricordiamo anche il polmone verde della città, il parco Miralfiore. Nel parco Miralfiore nello specifico abbiamo una gestione dei prati del parco Miralfiore mentre per il verde pubblico di Fano e di Pesaro abbiamo una manutenzione ordinaria sia del verde verticale quindi delle alberature e sia del verde orizzontale quindi tappeti erbosi, siepi e arbusti. Una delle ragioni per cui la nostra cooperativa è così longeva in un contesto in cui in questi anni purtroppo molte cooperative simili alla T41B hanno chiuso, hanno incontrato difficoltà perché stare sul mercato facendo un'attività con tutti i risvolti sociali come facciamo noi non è affatto facile ed è stato che noi abbiamo cercato sempre di coniugare questo progetto di solidarietà con la qualità dei servizi e delle produzioni che facciamo. Abbiamo personale qualificato, creiamo delle squadre in cui ognuna fa quello che può e con il risultato di dare comunque un servizio che corrisponde alla qualità che viene richiesta. Questa è un po' la nostra filosofia di lavoro.